Puntata ex straordinaria del Club del Bosco, questo nostro meraviglioso club del libro nel quale io porto al mio sindacabile giudizio i libri degli autori che hanno valore, che sono importanti per il tuo cambiamento, per il nostro cambiamento perché anch'io sono in continuo cambiamento. Puntata straordinaria volevo dire perché è una puntata di automarchetta, guadagnare senza lavorare, che è il mio ultimo libro, edito per la casa editrice Il punto d'incontro con questa bellissima copertina che molto probabilmente vedrai specchiata se non mi ricordo di girarla in fase di editing e con questa immagine di retro di copertina dove io sono un contadino però in giacca e cravatta che sta a simboleggiare il fatto che tutti quanti, anche chi non conosce nulla sui mercati finanziari attraverso questo malloppo di 360 pagine può diventare consulente finanziario di se stesso e imparare ad investire da solo. Perché? Perché ti hanno sempre raccontato che investire è qualcosa di incredibilmente complicato, che possono fare solo gli espertoni nelle banche, alle poste, quelli che muovono i grafici, che leggono le cose, ma non è così. Investire è capire quello che vuoi, decidere entro quando lo vuoi, quanto tempo lo vuoi, decidere quanti soldi ci puoi mettere dentro inizialmente e nel tempo, quindi facendo una attenta pianificazione delle tue finanze e poi, e poi parte più importante, mandare a quel paese tutti quanti i promotori finanziari delle banche, quelli delle poste, quelli dell'assicurazione, via tutti quanti via fuori dalle balle e comprare veramente, comprare anche soltanto 2-3 prodotti finanziari giusti per la tua situazione e non fare più nulla, non fare più nulla. Io lo so che può sembrare strano che si possa guadagnare senza lavorare, senza fare niente, ma è davvero possibile. E io rimpiango tantissimo il fatto di non aver capito queste cose. Molti anni fa, quando ho iniziato il mio percorso, ho dovuto studiare tanto e scrivere tanto per spiegarlo, perché se lo avessi fatto, se qualcuno veramente avesse messo questa informazione all'interno di un testo, santo cielo, quando io ho iniziato, ma non c'era questa cosa quando io ero giovane e non avevo la barba bianca, mi sarei licenziato molto molto prima e non avrei fatto la sciocchezza mia personale di dare i miei soldi alle banche e investire con le banche in prodotti inutilmente rischiosi che hanno fatto arricchire loro e non hanno fatto arricchire me. Guadagnare senza lavorare, automarchetta al Club del Bosco, manuale, pratico, edito da l'edizione di Punto d'Incontro, ci sono anche tutti gli altri miei libri qua dietro e è un libro di 360 pagine dove alla fine poi ti do anche dei consigli su altri libri da leggere per approfondire l'argomento. Riassuntone, riassuntone, perché magari tu potresti dirmi, ma io non lo so se fa il caso mio, perché i mercati finanziari a me non mi piacciono, io non ci credo in quella roba lì, ho paura di perdere tutti i soldi, è un mondo che non mi piace, è un mondo anche che eticamente non mi piace, ci sono dei modi per investire in modo etico, ad esempio una domanda che potresti porre, ci sono delle risposte qui dentro. Riassuntone, fa il caso tuo, è roba per te questa qua? Te la voglio spiegare, dunque, da dove parte l'autore, l'autore, da dove parte l'autore? L'autore parte spiegando una cosa molto semplice che è la seguente e che è realtà, realtà storica supportata dai dati. In passato il mondo è sempre cresciuto, se noi andiamo a guardare il prodotto interno lordo del mondo è sempre andato crescendo, cioè noi abbiamo come umanità abbiamo sempre il prodotto, sono stati dei momenti a causa delle guerre, a causa delle crisi finanziarie, a causa del covid eccetera, nei quali in quegli anni la nostra produttività come mondo non è stata positiva, ma nella stragrande maggioranza dei casi il mondo è sempre cresciuto e questo è dimostrato da questo grafico che troverete nell'idolibro pieno di grafici dove vi mostro la crescita del mondo, questo è un indice che mostra la crescita mondiale dal 1987 al 2022, il 23 e 24 non sono diversi, anzi il 24 è un anno di incredibile crescita e come vedete tutte quelle scritte sono tutte le crisi che abbiamo dovuto affrontare guerre, problemi, casini vari, covid, pandemie, pazzie, ma guardate come va sul grafico, continua a crescere, va sempre in su. Allora tu ti potrai domandare, da quello che mi sono chiesto io, ma si può cavalcare questa crescita mondiale? Io ci posso buttare sopra dei soldi e dire tu mondo cresce, tu voi tutti quanti lavorate senza che io faccia niente, lavorate voi, lavora tu, lavora tu vecchiaccia come diceva Richard Benson, che io ci metto solo i soldi sul vostro lavoro e dopo un po' di tempo me li riprendo solo di più e guadagno senza fare niente mentre voi lavorate. Brutta questa cosa da dire, no? Brutto far vedere che lavorano gli altri e tu non fare nulla e guadagnare, ma la risposta è sì, puoi guadagnare senza fare niente. Diventi ricco con questo meccanismo? No, non diventi ricco, non è un meccanismo per fare un sacco di soldi, a meno che tu non abbia delle entrate interessanti e sia molto bravo a risparmiare. Allora se riesci a congiungere queste due cose, a coniugare questi due aspetti, allora sì, puoi anche diventare schifosamente ricco, metterlo da parte tantissimi soldi in pochissimo tempo. C'è la certezza che questa cosa funzioni al 100%? Ovviamente no, nessuno ha la sfera di cristallo, chiunque vi dica che le cose andranno esattamente in questo modo, che il mondo continuerà a crescere come Francesco vi dice, è un pagliaccio, è una persona che non sa quello che dice, oppure è in cattiva fede, vuole in qualche modo i vostri soldi, vuole vendervi qualcosa, ok? Non è così, non è così, non lo possiamo sapere, possiamo vedere quello che è capitato in passato, abbiamo superato situazioni difficilissime e poi il mondo è sempre che è cresciuto, si trattava solo di aspettare abbastanza tempo ed essere abbastanza pazienti. Se sposi questa visione passata e in qualche modo credi che anche in futuro l'umanità sarà abbastanza brava da superare anche le prossime crisi, i prossimi problemi, allora ci metti superare i soldi e hai una certa probabilità di guadagnarci. Naturalmente non si tratta di fare trading, non si tratta di comprare strani prodotti, opzioni binarie, cose strane, si tratta di fare quello che hanno sempre fatto le banche, le assicurazioni, le poste, il robot advisor con i tuoi soldi ma fartelo da solo. E perché fartelo da solo? Perché se te lo fai da solo, che è facile, che una volta che lo hai imparato è come aver preso la patente di guida, guidi e basta, non ci pensi più, è così? Se lo fai da solo risparmi un sacco di soldi e quindi sono soldini che ti entrano nelle tue tasche di più, ok? E non li dai alle banche che sono ricchissime esattamente per questo motivo, perché tutti si affidano a loro e si trattengono una bella percentuale, molto grossa, molto copiosa sul tuo denaro, diventano ricche loro e diventi poco ricco tu, ok? Come dice Checco Zalone, poco ricco. Ecco, per parlarvi di cose più tecniche, così andiamo un po' a parlare di quello che è. Di cosa si tratta? Tecnicamente, di cosa si tratta? Cavalcare la crescita mondiale vuol dire cavalcare gli indici. Avrei sentito parlare degli indici, l'SP500, il Nasdaq, il Dow Jones, il Nikkei e bla bla bla, ok? Come si cavalcano degli indici, cioè come si scommette su tutta la crescita mondiale attraverso i fondi. Che cosa sono i fondi? Sono dei grandissimi panieri tipicamente, concedetemi la semplificazione, dei grandissimi panieri di azioni di 3.000 aziende sparse in tutto il mondo, tu le compri tutte con pochissimi soldi, anche con 30 euro, con 50 euro ti compri un pezzettino di tutte le aziende del mondo e siccome le aziende del mondo sono quelle che creano la crescita mondiale, il PIL, i tuoi soldi crescono con loro. Cioè ti tu, tecnicamente parlando, attraverso questo libro imparerai a comprarti le quote di fondi comuni di investimento che oggi sono trasformati in strumenti più efficienti che si chiamano ETF, Exchange Traded Fund. Compri quanti pezzettini puoi, quante share, quante quote puoi, una quota può costare dai 10 euro fino ai 1000 euro, dipende dall'ETF che stai comprando, diciamo. Ci compri le quote che ci puoi comprare con i tuoi soldi e poi lasci che il mondo vada, lasci che il mondo cresca e tu ci guadagni se le cose vanno come abbiamo previsto, se le cose vanno secondo questa crescita mondiale come è stata in passata. Le cose possono andare anche male, naturalmente tutti gli investimenti finanziari comportano un rischio e questo rischio te lo devi accollare. Però tra tutte le forme di investimento che puoi mettere in campo, attualmente questa forma di investimento è quella che almeno basandoci sui dati storici che abbiamo e sulle statistiche, viene considerata in generale dagli investitori la meno rischiosa, che non è fare trading, che non è scommettere, che non è stare tutto giorno davanti ai monitor a guardare come vanno i grafici, ma è cavalcare la crescita mondiale mentre te ne stai sul divano a mangiare patatine e bere una birra. L'avete visto in quel video che l'ho fatto, no? E naturalmente per fare questo ci vuole un'attenta pianificazione delle tue finanze, devi sapere quanti soldi metterci, devi sapere ogni quanto aggiungere del denaro, devi sapere come comporre il tuo portafoglio, quali TF comprare banalmente. Puoi comprarne anche uno solo oppure puoi comprarne 10, dipende da quanto sofisticato è il tuo investimento, quanto in qualche modo vuoi metterci le mani, quanto vuoi essere attivo, quanto vuoi essere passivo, in generale è meglio essere passivi che attivi. Gran parte del libro è, oltre a avere proprio all'interno le schermate con i click che devi fare per comprarti gli ETF sui broker o selezionarli sui siti che ti permettono di valutarli, gran parte del libro contiene naturalmente la spiegazione di come creare la tua strategia di investimento in base alla tua situazione perché tu sei diverso da tutti quanti e puoi metterci più o meno soldi, puoi rischiare più o meno, puoi avere dei traguardi di investimento che sono alimentare ricco, vivere senza lavorare, mettere da parte 10.000 euro per fare un viaggio, metterne da parte 50.000 per comprarmi il camper, metterne da parte 3.000, 2.000 per andare a fare un viaggio l'anno prossimo senza dover chiedere un finanziamento. Prima devi capire perché vuoi investire e poi costruirti la tua strategia e comprarti i ETF, i ETF, i ETF, i pezzettini di strumenti finanziari che siano giusti per quello che tu vuoi raggiungere e qui ci sono tutti gli esempi del caso, come evolve nel tempo il tuo portafoglio in base a quello che vuoi raggiungere, guadagnare senza lavorare, ok? È un po' questo ed è grosso il mallopo perché c'è tanta roba, è perché siamo tutti molto diversi e ognuno ha la sua caratteristica, la sua peculiarità e quindi codificare un po' le situazioni di tutti non è semplice, bisogna leggere tanto, però io penso che sarà una lettura piacevole per la tua estate e credo che siano informazioni che soprattutto se tramandate, raccontate ai nostri figli, possono permettere loro di vivere una vita quantomeno economicamente più tranquilla di quella che abbiamo vissuto noi o i nostri padri che si sono spesso basati sbagliando troppo sul risparmio e troppo poco sull'investimento.